Ciao a tutti, oggi prepareremo il pan dolce. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e dieci minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo maritoba, farina di tipo doppio zero, burro, zucchero, miele, uova, aroma di panettone, lievito per dolci vanigliato, uvetta ammollata, canditi, pinoli, marsala e gran barnier. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare. per dieci secondi a velocità dieci. Venire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. ed azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità a 2. aggiungere le uova ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità a 3. aggiungere la farina di tipo manitoba, la farina di tipo doppio zero, l'aroma di panettone, il miele, il marsala, il gran barnier e il lievito ed azionare il bimbi per 2 minuti per 2 minuti a velocità a 4. aggiungere l'ovetta, i gandidi e i pinoli ed azionare il bimbi per 1 minuto in modalità spiga. formare un panetto e trasferire su una teglia rivestita con carta da forno. effettuare dei tagli formando dei rombi e cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 45-50 minuti. Il pan dolce è cotto, lasciare intiepidire, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Pan dolce, grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!